Infatti, magari uno dice, se pensi a metto un ascensore in casa, chissà, abituati magari agli ascensori che abbiamo nei palazzi, nei condomini, invece, anzi, ci guadagna pure l'arredamento, credo, no? Sì, sì, sì. Quindi anche cura molto nei dettagli, non solo appunto tecnici, meccanici, tutto quanto, ma anche il design. Soprattutto. Eh, va bene, questa è una cosa molto importante. Poi, voi avete anche dei consulenti che vanno a casa delle persone, no? C'è questa possibilità. Sì, noi offriamo una consulenza domiciliare. Senza impegno? Se uno può chiamare, uno va, come funziona? Assolutamente senza impegno. L'esperienza dei nostri consulenti è a completa disposizione del nostro cliente. Con il cliente valutiamo l'intervento più adatto, in base a quelle che ovviamente sono le esigenze che il nostro cliente necessita, e proponiamo la soluzione migliore, sempre nell'intento di riuscire a salvaguardare proprio il suo beneficio diretto. Certo. Lì basta telefonare, noi stiamo vedendo un numero anche verde, quindi è completamente gratuito. C'è il sito internet, quindi telefonare e appunto chiedere un consiglio per appunto riuscire a vivere meglio, no? Veramente con totale indipendenza. E questo è una cosa, sto lavorando anche con persone over 60, che noti, se il fastidio magari ti devi fare una doccia, devi chiamare qualcuno per farti aiutare, invece così puoi vivere come quando hai un ragazzino, una ragazzina. Ecco, un aspetto importante che diceva prima il collega riguarda l'approccio multicanale della nostra azienda. Perché noi sicuramente per tipologia di prodotti ci rivolgiamo al nostro target primario, che è quello degli over 60. Però ci rendiamo conto che per queste persone sempre più ha importanza il parere, il consiglio di un figlio che prende carico di gestire poi la situazione di contattare l'azienda. E l'approccio multicanale sta proprio in questo, cioè attraverso il nostro numero verde, attraverso il sito è possibile richiedere la consulenza gratuita del consulente a casa, quindi possiamo visitare puntualmente a casa i nostri clienti, oppure i nostri clienti possono attraverso il sito, attraverso i blog, recepire le prime informazioni basilari o ancora più importante, visionare i prodotti, quindi provare i prodotti prima dell'acquisto nei nostri showroom, che sono in tutta Italia, sono dei veri e propri negozi, quindi dove è possibile... Quindi uno si può sedere, come vediamo adesso nella fotografia, provarli, appunto scegliere poi il colore, tutto, tutto quanto. Quindi questo è anche un consiglio, non so, per tutti i figli, i nipoti, no? Magari un bel regalo per i genitori, i nonni, sarebbe proprio quello. Diamo la possibilità di toccare con mano prima di acquistare il prodotto. Ecco, qua vediamo la vasca di cui abbiamo parlato prima, anche questo, infatti, molto bella. Questa è la soluzione più comoda per accedere, per poter fare un bagno, diciamo, in tranquillità. Sì, 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 hai tutto lì a portata di mano, apri, c'è questa porta, no? La trasparente. Sì, nel gergo si chiamano vasche con porta, proprio perché si accede. Basta, ho indovinato, ho comportato. Hai indovinato. Ottimo, veramente. Un complimento è anche ora in questo catalogo, se avete la possibilità magari di richiederlo anche, è fatto una nuova foto, è fatto molto bene, però visitate il sito, veramente telefonate, io dico sia voi over 60 che ci ascoltate, ma credo soprattutto, appunto, figli, genitori, fate un bel gesto, aiutate queste persone che ci hanno dato veramente la vita e quindi magari far vivere a loro come si deve tutti gli anni che rimangono, no? Che sono tanti, quindi, oh. Esattamente. Va bene, quindi grazie. Ecco qua ancora il numero verde in sovraimpressione. Intanto ringrazio ancora Francesco Farina, direttore marketing, e Nicola Lentini, direttore commerciale di Senior Life. Grazie. A presto, buon lavoro, adesso noi ci fermiamo, è un minutino di pubblicità. Pubblicità. ...dappunto di vista estetico.